Non ce l'ha fatta. È morto dopo una settimana di ricovero nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari. Il 51enne Pietro Ranieri è rimasto folgorato mentre montava l'insegna di un bar in via Quintino Sella, nel centro di Bari. Il PM Larissa Catella ha disposto l'autopsia e ha iscritto nel registro degli indagati la titolare del bar e 12 medici. La Procura vuole accertare le cause del decesso per comprendere se siano correlate esclusivamente la scarica elettrica oppure se vi siano eventuali profili di responsabilità colposa con riferimento agli interventi sanitari prestati dall'equip del reparto di rianimazione del Policlinico durante il ricovero. Stando alla ricostruzione fatta dagli investigatori, l'uomo, titolare di Master Neon, un rivenditore di articoli per l'illuminazione, era sulla scala, le prese con l'insegna luminosa del bar e non si è accorto della presenza di un cavo. Una scarica da 380 volte lo ha colpito, trafiggendolo da spalla a fianco. L'incidente è avvenuto lo scorso 17 ottobre, mentre il decesso si è appreso e risale tre giorni fa.